Buongiorno signor Minaccia, ciao signor Niu, date le impressioni di questa giornata? Eh buone, buone. Ma ultimamente i vostri fans sono rimasti un po' arrabbiati, come mai? Eh vabbè, le gare sono così, una volta vince una, una volta vince un altro, meglio che non vince sempre lo stesso. La vostra macchina e voi state in forma oggi? Sì, 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 certamente sempre. Sul territorio di casa? Sempre, sempre. Hai visto quanto pubblico ci sta? Assai, assai. La strada alle 8 di stamattina, la strada chiusa e il pubblico avruiva enorme. La giornata merita e quindi noi tra piloti e spettatori siamo tutti quanti per lo scopo. Comunque l'ata sarà un certo. Certamente. Un pubblico a lupo. Previ, previ, vi devi lì. Il percorso di gara che si snoda per 1800 metri, ricco di curve e di pirilli. Previ, previ... Grazie. 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 Voi di dove siete? A Marti. A Marti. Il vostro nome? Fabio Palladino 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 di Cassione, qualche cosa